Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. Oggi vi mostro Gran Turismo V. Ho voluto fare questo gameplay perché ho visto che il mio amico Slate4, un amico che ho conosciuto da poco su YouTube, che anche lui è un canale, che metterò il suo link nella descrizione, così vi potrete iscrivere. Ho visto che lui ha caricato un video di Forza Horizon, una demo. E poi è un gioco che invidio molto all'Xbox 360 perché io avendo solo PC e PS3 non ne posso gioire di quel titolo. Quindi ho deciso di... mi ha fatto venire voglia di giocare a un gioco di corse e ho deciso di fare questo gameplay di Gran Turismo V. Solo che io non ho una scheda d'acquisizione, quindi sto facendo il gameplay con la mia videocamera, quella con cui faccio i secondo me. E... la qualità quindi è quella che è, però vi dovrete accontentare. Comunque sto seriamente pensando di comprare una scheda d'acquisizione perché voglio fare parecchi gameplay con la PS3. E niente... penso che mi butterò sulla Vermiria Game Capture HD. Intanto state vedendo il circuito di Daytona. Sono appena arrivato in prima posizione con la mia Nissan Skyline GT-R, anzi questa si chiama solo GT-R. State ascoltando la mia soundtrack personale di Gran Turismo V. Ah, io bello. Sperando che non si scarichi la videocamera, visto che è una sola tacca, indicatore di carica residua. Proviamo una visuale interna intanto, giusto per farvi vedere. Non sono molto pratico di questa visuale. E si vede. Aiuto! Ok, va, rimettiamo subito la visuale esterna. Ecco, ha mancato la mia bella GT-R. Come farò adesso? Vi manterrò il conto a casa. Siamo ancora al secondo giro. Ragazzi, non so come si vedrà una volta caricato su PC questo video. Se si vedrà bene, allora lo caricherò sul canale. Altrimenti sto parlando al babbero, eh. Non mi sentirete, non vedrete mai questo video. Ma comunque lo devo comprare da Vermiria. Spero che non mi facciano problemi di copyright in questa canzone di Queen. The show must go over. Yutto! Gli ho dato una pista ai miei avversari Sono troppo forte Eppure questa è una gara di livello esperto Ma grazie alla mia GTR elaborata Non c'è pane per nessuno Purtroppo si è scaricata la batteria della videocamera Comunque la gara l'ho finita, l'ho vinta Perché alla fine la mia GTR era molto più veloce rispetto alle dirette avversarie E ora vi lascio con una piccola carrellata di immagini Che ho fatto sempre con Gran Turismo 5 In attesa di comprare una scheda d'acquisizione Speriamo di comprarla al più presto Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti